ok raga ho deciso di infrangere la legge la legge che però ho emanato io stesso e che era quella del video scorso sugli equipaggiamenti l'ho deciso perché per fare quella gag degli equipaggiamenti mi sono macinato tutte le z2 medals e non le ho più per farmare il ride e sinceramente perdermi quei tre skip giornalieri sul ride insomma già che non ho i personaggi e quindi di medaglie ne prendo poche non mi andava e allora ho detto vabbè facciamoci un giro per il meme per il content raga veramente questa volta un giro soltanto perché c'è un giro per ora mettiamo così un giro per ora poi valuterò il personaggio nei prossimi giorni lo faccio ripeto per il content e anche per avere le medaglie per farmarmi più tranquillamente il ride quindi mi basta un giro non pullerò il ticket lo dico subito perché vediamo vediamo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni però a meno che veramente non diventi un personaggio incredibile imparando a giocarlo eccetera eccetera ve l'ho detto nell'altro video non mi ha fatto questa impressione disumana peraltro il banner sì ok 17 ancora ancora se trovassi mvp mi andrebbe bene perché ce l'ho a due stelle però capite che non pullo per mvp i gamma ce li ho a 7 siamo a posto gli androidi giren cell raga veramente non li vorrei mai vedere e bulla bulla assolutamente se mi esce non mi dispiace non ho neanche muten e ottone quindi nel dolore diciamo se mi uscissero anche loro tutto sommato li accetterei il resto veramente spero di non trovarlo proprio mai 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 ma tanto so già che troverò tutto come se fosse un master pack vabbè raga per il meme per il content ci facciamo questo giro uno un giro e per soprattutto no soprattutto no diciamo le z2 medals ma soprattutto per trovare lui e loro stavolta shaft per cortesia basta l'ho messo l'audio ok non ce l'avevo non ce l'avevo perfetto ora ce l'abbiamo e va bene dai si parte via nella 300 non ho mai trovato niente nella vita tranne quando è uscito un piccolo quello lf giallo quello vecchissimo oh 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 cielo rosso 5 pod nella 300 ci sarà la merda però è buono è buono vediamo chi ci regala chi ci regala qualcosa di merdoso nessuno viene a salvarmi raga nessuno 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 è venuto a salvarmi non c'è niente non ci credo non c'è niente non c'è niente non è venuto nessuno a salvarci non è venuto nessuno va bene facciamoci la 500 dai partenza bella l'animazione ma scarso il contenuto eh siamo già andati indietro con le pod siamo già meno due prima cinque ora tre chiaramente più personaggi meno pod cioè quei due personaggi in più e sono due pod in meno non si sa eh pull oro perlomeno abbiamo una sparking merdosa spero che esca a pulla sinceramente raga dopo lo shaft dell'altro dell'altro banner che non mi è uscita manco l'SP in 20.000 almeno l'SP la vorrei portare a casa vediamo se vediamo raga potete flammarmi potete vi è concesso vi è concesso lasciate un commentino pezzo di merda e se youtube ve la censura io ve la abilito pezzo di merda andiamo avanti raga per quanto so triggerato comunque per lo shaft dell'altro banner allora se non era per il content che è veramente ok io mi sarei fermato perché lf alla seconda multi io penso non mi sia mai capitata sì 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 quella volta lì che ho detto prima di piccola ma poi mai più e però penso che vi incazzereste a morte se io mi fermassi ora quindi il giro lo finiamo lo finiamo però poi veramente gli vado nel culo a questo banner perché zero proprio di zero ok siamo già rientrati nello shaft vegeta d'accordo vabbè comunque raga lf alla seconda multi ma che sollievo proprio che sollievo dammi anche bulla dammi anche bulla dai dammi anche bulla dammi anche bulla oh 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 a qui si ritorna a quelle teorie complottiste che quando shafti ammerda su un banner in quello dopo scuri oppure quando scuri ammerda su un banner in quello dopo shafti cioè spiegatemi sta situazione com'è possibile raga guardate i baffi che ci sono qua su guardate i baffi nostalgio raga io non so che dire va bene sono a posto così sono a posto che c'è qui oh oh a tutti quelli che ho chiamato me li sta dando e a questo punto mi aspetto anche ottone ottone e no eh t'avrei preferito nell'altra versione quella nuova però ti apprezzo che stai cercando di dirmi arrivo raga soddisfatto soddisfatto mi finisco il giro proprio con la spensieratezza eeeh aspetta si rallenta qui eh cielo verde tre pod Goku normale ginocchiata nella bocca a freezer ma non gli ha fatto niente pull merdoso merdoso proprio marrone se avete visto ok perlomeno la madame un'altra un'altra bulla un'altra bulla quindi certo non mi aspetto un 17 però un'altra bulla io l'accetterei bulla bulla vediamo se poi bullizzerà effettivamente il meta vediamo eeeh direi che cioè non credo che lui bullizzerà il meta non penso che anche radish bullizzerà il meta però me lo ricordo ancora ai tempi che lo utilizzavamo come panchina doppio doppio attacco per i saian non ci sono extreme nuove no se non sbaglio doppio hit raga impossibile impossibile trovarlo impossibile vabbè direi multi un po' bruttina eh ok ok lo volevo lo volevo non è vero non è vero andiamo con l'ultima multi a pago e poi ci facciamo una bella free bella poderosa dammi una bella animazione mamma mia mamma mia eeeh pur rosso super saian ma qui non c'è niente raga vabbè freezer si caga addosso è lì che spruzza su namek vediamo eeeh omega direi che sei un po' passato sei arrivato un po' un po' al capolinea c'è lo zenkai d'accordo ma sei già a 14 quindi capito c'è quel problema lì fake out vediamo chi ci esce no 17 cioè sei uscito 3 volte praticamente di cui 2 sbagliate c'è c'è questo problema capito e mi serve l'altro raga me l'ha presa bene eh quando ho detto mi serve l'altro e ho visto lf me l'ha presa bene vabbè ok un po' d'amaro in bocca devo dire che ce l'ho eh però poteva andar peggio loro io penso un domani che prenderanno lo zenkai saranno dei diti in culo ma diti di quelli proprio sai grossi come come cazzi diciamo come cazzi eh ci fosse stato un altro 17 sarebbe stato veramente vabbè 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 commentatemi vabbè 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 peccato per questi gemelli se ci fosse stato un altro 17 lf sarebbe stato veramente cioè il giro della vita però bulla 6 mi sta bene a questo punto facciamoci la free e se ne trovo un altro pullo il ticket oh oh cielo rosso 5 pod super saian blu dammi bardak bardak biondo bardak biondo niente crepa Goku dai perdi 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 freezer black freezer trasformati niente raga sono speranzoso eh sono speranzoso sono speranzoso dai non mi delude 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 dio mio a te non t'ho mai voluto non t'ho mai voluto dai ce n'è un'altra eh dai ce n'è un'altra eh dammi roba dammi roba chiudiamola in bellezza dammi roba mamma mia raga roba merdosa mi ha dato roba merdosa va bene eeeh allora boh son tentato da quel tichettino però io penso ma ipotizziamo che io non prenda il ticket e conservi i gettoni perchè un domani decidessi di pullarci ancora però ho capito sono troppo lontani i premi si potrei arrivare magari ai 3 ticket risparmiarci qualcosa alla multizzetta non ci arriverei mai cioè 5 me ne mancano 25 sono troppi la multizzetta da 200 mi sembra un po' da pezzenti raga io per ora direi io per ora mi conservo i 5 gettoni e non faccio cazzate come faccio al mio solito mi conservo i 5 gettoni vediamo nei prossimi giorni 17 come si comporterà sia il mio vabbè a 3 stelle d'accordo però il mio sia anche quelli che mi troverò in pvp e eventualmente mi conservo i gettoni e decideremo nel prossimo eventuale video pull se deciderò di pullare oppure semplicemente mi prenderò il ticket se deciderò di smettere vabbè vi faccio lo short o comunque ve li metto ve lo metto su tiktok non lo so una roba del genere eh fatemi sapere quello che avete trovato e niente fatemi sapere dove provare questo vile visto che non ho praticamente nessuno per quanto riguarda i droids e ho shaptato anche Goku Genki dai a domani